Stasera voglio parlare ai lavoratori autonomi, a una parte delle cosiddette partite IVA, ai titolari di bar, pasticcerie, ristoranti, tavole calde, ma anche ai gestori degli stabilimenti balneari. So bene, sappiamo bene quanto è difficile e per certi versi drammatica la situazione che voi in particolare state vivendo, dentro un quadro di difficoltà che attraversa l'intera nostra comunità, l'intero paese e probabilmente tutte le categorie sociali, sicuramente la situazione che voi state vivendo è una delle più difficili, delle più drammatiche e so anche bene, capisco anche bene quanto ci si possa sentire soli in questa situazione, quanto un'attività autonoma, quella in cui ognuno ogni mattina fa i conti da solo con queste difficoltà, possa far pesare appunto questa solitudine come una difficoltà in più nell'affrontare una tragedia così grande. Non siete soli, questo voglio dirvi, non siete soli perché le istituzioni si stanno occupando di voi, perché io parlo per l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale di Ancona ma non è l'unica, lo stanno facendo gran parte dei comuni e gran parte dei miei colleghi sindaco, l'amministrazione comunale di Ancona sta lavorando concretamente perché non siate soli in questa situazione e lo sta facendo cercando di fare, di fare, non di dire, di fare quello che può fare un'amministrazione comunale. Metteremo a disposizione, di chiunque ce lo chiederà, aree pubbliche, piazze, strade, parchi, giardini pubblici, spiagge, metteremo a disposizione ulteriori aree pubbliche senza costo, quindi senza dover pagare ulteriori TOSAP, COSAP, canoni demaniali, eccetera, per poter esercitare le vostre attività all'aperto utilizzando questi spazi. Tradotto, recuperando con ulteriori spazi all'aperto quello spazio che dentro i locali non è sufficiente per le misure di cautela che dovranno essere adottate o che anche negli attuali DEOR, negli attuali spazi all'aperto dovranno essere ridotte. Se prima in un dato spazio potevano starci dieci tavoli, ce ne dovranno stare di meno. Per avere lo stesso, i dieci tavoli, metteremo a disposizione tutte le aree pubbliche possibili e immaginabili, a costo zero. Interverremo anche, e stiamo intervenendo insieme alla Regione Marche, in questo caso, e ai vostri rappresentanti delle associazioni di categoria, per la definizione rapida nei prossimi giorni dei modelli operativi concreti, gestionali, con i quali realizzare le misure di cautela e di sicurezza. Modelli e misure che debbono essere costruite con voi, con chi l'esperienza concreta sul campo letteralmente ce l'ha, non modelli astratti, teorici, ma questi modelli bisogna definire per poter riaprire e ripartire in sicurezza, in sicurezza per voi e per i clienti. Infine stiamo, insieme alla Rete dei Comuni, all'Associazione Nazionale dei Comuni, stiamo intervenendo e facendo pressione perché ci sia una misura che non può che essere di livello nazionale, statale, per consentire uno sgravio sul pagamento della Tari, non una semplice dilazione ma uno sgravio, una riduzione. Come invece decideremo autonomamente misure di riduzione della COSAP per chi non potrà usufruire delle ulteriori aree pubbliche. Stiamo discutendo in queste ore, in questi giorni, dei provvedimenti amministrativi per dare attuazione a queste cose e nel giro di pochi giorni daremo attuazione a queste prime iniziative. Sono delle prime iniziative ma sono cose concrete per dimostrarvi con i fatti che non siete soli. Coraggio!